Al sorgere del sole, Yu ruppe la formazione e invertì la rotta per far vela verso Hong Kong. La ninfea rossa invece si allontanò dalla parte opposta e vedendola partire sentì una stretta al cuore. Sperava che ai suoi figli non succedesse niente di pericoloso e in effetti il compito che gli aveva affidato era forse il più sicuro. Ma in guerra può accadere qualunque cosa e da ammiraglio ho il dovere di trattare Qui e Wen come tutti gli altri pirati. Se c'è da combattere combatteranno. La notte precedente Yu aveva chiesto a piccola furia e farfalla notturna di venire con lei sulla vendetta perché la aiutassero nei preparativi e fece trasferire anche il capitano Yang e parecchi dei suoi uomini. Poi chiamò tigre scarlatta. Il capitano mi sembra una persona degna di fiducia esclamò ma è meglio essere prudenti tienilo d'occhio. Sapeva che questo era il principale punto debole del suo piano. Fino al ritorno di Orso Nero avrebbe dovuto basarsi in gran parte sulle informazioni di Yang che potevano essere imprecise o fasulle. Forse avrebbe dovuto torturarlo. Ma Yu aveva provato la tortura sulla sua pelle. Serviva a tirar fuori il peggio di una persona. Non certo la verità. Basta, si disse. Controlla quel che puoi controllare e affronta il resto quando sarà il momento. Sulla via del ritorno trovarono cattivo tempo, vento contrario e pioggia forte, onde come rupe scoscese che sballottolavano la vendetta senza tregua. Quest'anno la stagione delle piogge comincia prima del previsto, commentò Annuse il vento. È un bel problema, rispose Yu. Non sarò tranquilla finché non sarò a Hong Kong. Ogni ora di ritardo potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Allora canterò al vento per convincerlo ad aiutarci. Si diceva che i monaci taoisti conoscessero antiche magie per influire sul tempo atmosferico, ma in tutti quegli anni Yu non gliene aveva mai visto fare una. Perché giocare coi venti è pericoloso. Il vantaggio di oggi può trasformarsi in sventura domani. Ma se è così importante, lo farò. Con quelle parole il timoniere iniziò a cantare. Era poco più di un mormorio, un soffio tra le labbra fatto di note semplici che sembravano arrampicarsi le une sulle altre. Yu restò a guardarlo dicendosi che era impossibile, che una canzone non poteva calmare il mare o far cambiare direzione alle correnti. Poi si rese conto che davvero le acque avevano smesso di picchiare contro la lorcia e la giunca filava sulla superficie scura, scivolando sulle onde invece di lottare contro di loro. Nonostante l'aiuto di Annusa e il vento, impiegarono quasi quattro giorni per tornare a Hong Kong. Nei sei anni trascorsi da quando Yu aveva ripreso la flotta, anche l'isola era molto cambiata. In apparenza era più selvaggia. Gli alberi che Mago degli Inganni aveva tagliato erano stati ripiantati e la giungla aveva invaso le due penisole che delimitavano la baia. Ma dietro quell'apparente incuria si nascondeva una pianificazione attenta. Le postazioni di artiglieria lungo le coste erano state rinforzate. C'erano punti di osservazione armati di cannoni, razzi di segnalazione e cannocchiali e il villaggio in fondo alla baia si era molto ingrandito. Adesso c'era un vero porto, nascosto dietro l'insenatura della collina rossa, con pontili e approdi. Quando arrivarono, era ormeggiata una ventina di navi. Yuri conobbe la giunca di pescecane d'argento, quella di serpente del mare, nuvola di grandine e onda ruggente. Inoltre alcuni dei comandanti più giovani come medusa dorata, pugnale affilato, turbine volante. C'era anche la morte rossa di Kang Tredita e a bordo doveva esserci Tigre Blu con le sue nuove mogli. Yuri si augurava che avesse il buon gusto di non presentarsi a palazzo. Con tutte quelle barche, manovrare per raggiungere il loro pontile richiese un certo tempo. Quando le navi sarebbero diventate più di 200, gestire il traffico sarebbe stato un bel problema. La flotta avrebbe dovuto occupare le baie vicine e sarebbero serviti nuovi sentieri nella foresta e nuovi approdi. Cominciò ad aggiornare mentalmente la lista delle cose da fare e appena arrivata a palazzo mandò a chiamare bel ragazzo. Le taglie aveva giovato, si era fatto più robusto, le spalle più larghe, ma non aveva mai perso quell'espressione da sbruffoncello che all'inizio l'aveva fatta tanto arrabbiare. Quel giorno si presentò da lei vestito come un mandarino, con un chan-chan color della giada e un cappello in tessuto d'oro, lunghi astucci ingioiellati a coprirgli le unghie delle mani. Era così buffo che Yu scoppiò a ridere. Che c'è? gli domandò. In mia assenza sei diventato imperatore. Sei stata lontana troppo tempo, l'ama volante, altrimenti sapresti che adesso è obbligatorio chiamarmi Altezza Reale di Hong Kong. Le fece un inchino cerimonioso e avanzò verso di lei, agitando le unghie di metallo come artigli. Yu scivò facilmente quel goffo attacco e si infilò tra le sue braccia, lo strinse a sé. Ti sono mancato? domandò bel ragazzo. Sciocco. Come va qui sull'isola? Tutto bene, a parte l'oto danzante. Sai che non riesci a resistere al mio fascino. Quando piccola furia è in viaggio non mi lascia in pace un secondo. Yuri si ancora. Quindi sarai contento di sapere che piccola furia è tornato con me. Per qualche giorno potrai stare tranquillo o al sicuro dalla terribile loto. Ma se vuoi posso sempre farti assegnare una scorta. Sciocca, disse lui facendole il verso. Allora, com'è andato il primo viaggio della piccola qui? Lei lo aggiornò sulle ultime novità. Bel ragazzo ascoltò in silenzio, poi cominciò a farle una serie di domande. Yu apprezzò che non ci fossero esitazioni o dubbi, solo osservazioni puntuali su cosa fare, come farla, quando. Sedettero a un tavolo e iniziarono subito a lavorare. Yu gli mostrò la lista che aveva preparato e iniziarono ad aggiornarla, a modificarla, a prontare i loro piani. Il giorno successivo convocarono un altro consiglio di guerra e ordinarono a tutti i comandanti di salpare immediatamente, a nord e a sud, per richiamare la flotta con la massima urgenza. Yu volle che ogni comandante portasse con sé razzi di segnalazione e piccioni viaggiatori e si raccomandò di tornare a Hong Kong in meno di una luna. Poi cominciarono a occuparsi del resto. Bisognava prepararsi ad accogliere tutte quelle navi, rifornire l'isola di provviste sufficienti per nutrire una flotta di 40.000 persone per settimane intere. Occorreva potenziare le postazioni di artiglieria, passare in rassegna gli uomini e i cannoni, assistere alle esercitazioni. I giorni passavano così veloci che Yu cominciò a perderne il conto. Si svegliava prima dell'alba e lavorava ininterrottamente fino a terda notte, tanto che a volte non riusciva a tornare in camera e si addormentava direttamente sul tavolo. Passava ogni momento a controllare carte, progettare, ricevere i comandanti che andavano e venivano. Una mattina si presentarono i due gemelli, Jianguo e Jianguo, che comandavano una giunca a testa, ma navigavano sempre in coppia. Erano di ritorno da Macao, a misero che in effetti girava voce che l'imperatore fosse deciso a cancellare la pirateria dal mare e avesse messo insieme una flotta. Gli inglesi e i portoghesi avevano offerto 50 dei loro vascelli. Qualche giorno più tardi, Loto Danzanti annunciò il ritorno di Orsonero. Era arrivata a Hong Kong su una barchetta con una sola vela, esausto e così magro che sembrava digiuno da settimane. Yu lo ricevette immediatamente ed ebbe un'altra conferma. La flotta imperiale si era radunata a Shanghai e si preparava per far vela per Hong Kong. Orsonero aveva potuto vedere con i suoi occhi la grande ammiraglia del principe Onuko, che descriveva come semplicemente colossale. «Hai un brutto aspetto», commentò alla fine Yu. «Anche tu». Si misero a ridere. Lei ordinò ad abbondanza di portargli qualcosa da mangiare, poi si tuffò di nuovo nel lavoro. Intanto le giunche della flotta rossa avevano iniziato a fare ritorno, da Taiwan, dal Vietnam e dalle Filippine. Nel porto si affollarono la ninfia rossa di Qui e la giunca di Cavaliere del Fiume, tutte le navi che negli anni Yu aveva conquistato e convinta a unirsi a lei. Quando la baia della collina rossa non riuscì a ospitarle tutte, le giunchi approdarono nelle baie vicine, poi addirittura fra le insenature attorno all'isola di Lanma. «200 navi, eppure non bastano ancora», diceva Yu controllando le sue carte. «Le faremo bastare», la esortava bel ragazzo. Iniziò a preparare i ruoli di battaglia. Divise la flotta in due parti, 140 navi a Hong Kong sotto il suo diretto comando e 60 per la seconda flotta di Piccola Furia. Yu raggruppò le navi in squadriglie da 5 e le squadriglie in divisioni da 3. Fissò riunioni separate con Piccola Furia, con i comandanti di divisione e con quelli di squadriglia, spiegando gli ordini e cosa avrebbero dovuto fare in ogni momento della battaglia. Poi da nord, la rete di spie e villaggi amici che Yu aveva messo in piedi negli anni cominciò a inviarle rapporti sulla flotta nemica. Il cielo di Hong Kong si oscurò a causa dei colombi viaggiatori che andavano e venivano e la notte la costa brillava per le luci di segnalazione. I messaggi dicevano sempre la stessa cosa. Il principe Cao era salvato da Shanghai e lentamente si dirigeva verso di loro. Ad essere a Wenzu, a Taiwan, a Shantou, a Shanwei. Una sera, poco dopo il tramonto, Farfalla notturna si presentò nella sua stanza e fece un inchino. L'ama volante, disse. Le nostre navi spie hanno appena inviato il segnale convenuto. Il segnale. La forza inarrestabile del principe Onuku era pronta a lasciare Shanwei. Sarebbe arrivata a Hong Kong all'alba del giorno successivo. E dunque era il momento. Cominciava l'ultima battaglia.